In bicicletta, no mi sbaglio, non stiamo parlando dello studio, quello è cociante, perché la capigliatura potrebbe ricordare quello, ma in realtà noi parliamo di Lucio Battisti e quindi a tal proposito abbiamo una cover importante, un tributo al nostro grande Lucio Battisti e viene rappresentato da te. Da me, dal gruppo che ho qui con me, che sono i musicisti del gruppo, ci chiamiamo Quinto Spazio. Quinto Spazio, a Sanremo perché? Siamo a Sanremo perché ci esibiremo nel corso del Sanremo, dopo domani, sabato alle 17, al teatro della Federazione Operaia. Questo sentire Lucio Battisti dentro o perché un giorno ti sei svegliato e ti hanno detto guarda ma te canti tra i quali a Lucio Battisti? No, in realtà cantare come Lucio Battisti è proprio difficilissimo e forse anche impossibile. Noi cerchiamo di rievocarlo, insomma, cercando di metterci anche un po' del nostro, arrangiando le canzoni, ma giusto perché siamo proprio amanti e appassionati del pop italiano, ecco. A tal proposito tu hai anche un CD? Sì, abbiamo fatto un demo, vi sta l'occasione, insomma, l'abbiamo registrato proprio in questi giorni prima di venire qui a Sanremo. Abbiamo fatto anche una bella copertina che ci ritrae, insomma, in tenuta da concerto perché ci esibiamo così. La pasmina non manca mai. E quindi, insomma, speriamo di regalare anche qui a Sanremo delle emozioni come spesso accade nei nostri concerti. E quindi, visto che te sei un cantante, mi devi, come dire, salutare gli amici di Night and Day cantando. E allora, salutiamo gli amici di Night and Day cantando giustamente una canzone di Battisti e facciamo anche qui un pezzetto di... Buon calupo!